dei playoff 12 di Champions League maschile per il match in casa dell'Alkbank Ancara contro la squadra degli ex Kovac e Petric, la Sir convive con il dubbio Russell rimasto a riposo sabato scorso nella partita vinta fatica contro Ravenna per un problema muscolare che vedete nell'immagine. Lo statunitense difficilmente sarà del sestetto iniziale preparato da Bernardi ci sarà quindi probabilmente Berger, anche Atanasievic non è al top dopo l'influenza ma già contro Ravenna ha fatto vedere che anche in condizioni non ottimali è essenziale. La gara in Turchia è un passaggio fondamentale nel percorso in Champions e la Sir deve anche mettersi alle spalle alcune incertezze mostrate proprio nella prima dei playoff scudetto sabato sera contro Ravenna. Ancara guidata da Kovac in panchina, oltre all'altro ex Petric può contare sulla diagonale cubana formata da Ieresuelo e Hernandez. Il match di ritorno fra Perugia e Ancara in programma mercoledì 21 marzo alle 20.30 al palevangelisti. Si gioca con la consuata formula della Champions League per le doppie sfide a eliminazione diretta in caso di parità tra andate e ritorno è in programma il golden set al 15 per decidere il passaggio del tour. Una svolta nel...